Il mio sogno da bambino era fare il regista e poi la strada mi ha portato a fare l'artista. È un'opera che tu non ti aspetti, che la gente si aspetta di vedere l'arte nei musei, nelle gallerie. I personaggi sono molto intriganti, sia la figura di pesce che viene dai bassi fondi, lavora per la malavita e in qualche modo si redime. E anche Santa Maria l'ho trovato molto intrigante perché è una figura legata alla Chiesa ma in un modo particolare. È una di quelle serie che non ti dimentichi, che ti rimane impresso. La Chiesa ma in un modo particolare La Chiesa ma in un modo particolare